Nome. McCray Edwards. Numero vittime. Sei accertate. Modus operandi. Arma da fuoco. McCray Edwards è nato nel 1919 in Arkansas, Stati Uniti. Si trasferì nella contea di Los Angeles nel 1941, dove iniziò a lavorare nei cantieri autostradali. In quel ruolo, ha contribuito a costruire le autostrade che hanno reso famosa Los Angeles, e all'inizio del 1970 era un veterano del lavoro, sposato e padre di due figli. Nessuno poteva minimamente sospettare che dietro quel viso da bravuomo e gran lavoratore, si nascondeva qualcosa di malvagio. Infatti l'uomo uccise ben sei bambini, dal 1953 al 1969. Fu grazie ad un episodio che gli sfuggì di mano che venne arrestato. È il 1970. Edwards, con un complice, irrompe in un'abitazione privata e rapisce due ragazzine. Ma quest'ultime riuscirono a scappare. Il mostro decise così di costituirsi alla polizia, facendo finta di essere pentito di ciò che aveva fatto, sicuramente per uno sconto di pena. Durante gli interrogatori della polizia, confessò anche l'uccisione di 18 bambini. Questa confessione scioccò la polizia che, avendo molti casi risolti di bambini scomparsi e uccisi, decise immediatamente di indagare più a fondo. Partirono le ricerche via terra e via aerea nei luoghi indicati dal killer, per cercare casi di bambini dati scomparsi. Iniziò anche il dissotterramento delle bare di decine di bambini deceduti per morte violenta. Fu una delle più grandi ricerche di quegli anni. 100 persone, tra operai, agenti di polizia, esperti forensi e archeologi. Dei 18 delitti confessati, le prove portarono ad un'accusa di 6 bambini in totale. Le vittime erano. Stella Darlene Nolan, di 8 anni, scomparsa il 20 giugno 1953. Don Baker, 13 anni, e Brenda Howell, 11 anni, scomparsi il 6 agosto 1956. Howell era anch'essi la nipotina di Edwards. Gary Rocket, 16 anni, ritrovato subito dopo essere stato ucciso a colpi di arma da fuoco il 26 novembre 1968. Donald Allentode, 13 anni, scomparso il 16 maggio 1969. Roger Madison, 16 anni, è scomparso il 16 dicembre 1968. Tutte le vittime venivano rapite dalla strada o addirittura dalle loro abitazioni, irrompendo in casa loro, poi portate in un luogo isolato e uccise a colpi di pistola. A causa dell'avanzato stato di decomposizione dei corpi, che in alcuni casi erano già scheletri, non si ha potuto appurare se le vittime erano state anche violentate. In molti dei casi risolti, che Edwards confessò, le vittime avevano anche subito molestie sessuali, ma quei crimini non gli vennero mai imputati. Sconosciuto è il movente di tale follia. Durante il processo, e anche durante gli interrogatori, il killer appariva come un uomo affranto, pieno di sensi di colpa, il che fece pensare che l'unico movente fosse il fatto che era un vero e proprio psicopatico. Condannato a morte, il 30 ottobre 1971, fu ritrovato in peccato, dopo svariati giorni di tentati suicidi, nella sua cella. Le indagini sono tuttora aperte, sicuri che l'uomo è stato responsabile di molti più omicidi di quelli che gli sono stati imputati.